Ciao Gamal, siamo qui a Cairo nel tuo negozio e volevamo sapere chi è Gamal? chi è Gamal? Gamal è un uomo che vuole vivere la vita e per rendere le persone sentire la vita, perché oggi molte persone prendono i diritti degli altri, non danno i diritti alle persone di godersi la vita e di essere felici, di essere vivi. Ecco perché oggi molte persone vivono come macchine. Gamal, cosa vuol dire essere vivi? Sentire tutto, godere tutto, condividere tutto, essere te stesso e non essere preoccupato. Oggi ci sono troppe persone ma molti pochi esseri umani. Gamal, cosa significa essere umani? essere completi, accettare tutti come loro sono, dare agli altri gli stessi diritti che tu dai a te stesso. vuoi avere un lavoro, una famiglia, una macchina, bambini. Gli altri hanno gli stessi diritti. Ma la cosa più importante è dare a loro la speranza per il futuro. Senza speranza non c'è vita. Quante persone soffrono nel mondo? Troppe. Quanti bambini muoiono perché non hanno cibo? Troppe. Quante persone sono malate e hanno bisogno di medicina? Troppe. Quante persone hanno un mucchio e non si godono la vita? Troppe. Perché non cercano l'amore. Cercano di avere sempre di più. Gamal, che cos'è l'amore? E' vita. E' vita. Senza amore non c'è vita. Puoi sentire la terra, puoi sentire la flore, puoi sentire la natura, puoi sentire l'umano, puoi sentire l'animo. Puoi sentire la terra, puoi sentire i fiori, puoi sentire la natura, puoi sentire gli altri esseri umani. Tutto questo viene dal cuore. dal cuore aperto, non dal cuore chiuso. E abbiamo bisogno di insegnare alle persone come aprire il loro cuore. Le persone hanno bisogno sia del materiale che dello spirituale. Hanno bisogno del cibo materiale e del cibo spirituale. naturalmente il cibo spirituale è una parte dell'universo. Come comunicare con qualunque cosa nell'universo. Se non hai il linguaggio. Se non hai la chiave. come potresti comunicare. Come potresti comunicare. E il linguaggio è praticare la vita spirituale. perché noi viviamo sulla terra. Per al massimo cento anni. e poi andiamo in altre dimensioni. Per migliaia di anni. Abbiamo il permesso di tornare di nuovo per certe missioni. Ma questo non è nella nostra scelta. Non è nelle nostre mani. Gamal, ognuno ha una missione. ognuno ha una missione nella vita. Alcuni hanno la loro missione nella famiglia. Altri hanno la loro missione nella loro città. Altri hanno una missione nella loro nazione. Altri hanno una missione nella loro area. Altri hanno una missione nel mondo intero. E Gamal, qual è la tua missione? Qual è la tua missione? guidare le persone, condurre le persone alla loro verità. La loro propria verità. La loro propria verità. Capire che noi non portiamo nulla con noi quando moriamo. Lasceremo tutto. Ma possiamo goderci la vita se vogliamo. La vita spirituale e la vita materiale sono connesse quindi. Non c'è divisione. Non c'è divisione. Non c'è vita materiale senza vita spirituale. Ma ci sono alcuni problemi. La maggior parte delle persone non capiscono la vita spirituale. Le persone che capiscono devono insegnare agli altri e devono guidare gli altri. e questo ha un prezzo. E questo ha un prezzo. Ecco perché le persone che hanno grandi missioni pagano grandi prezzi. Tutti i grandi maestri che io conosco pagano grandi prezzi. Ma alla fine vincono. Conosci i maestri Sufi? Certo. Io considero qualunque maestro Sufi un mio maestro. Sono i miei colleghi. Alcuni di essi mi considerano un collega. Ma io considero tutti loro i miei maestri. Sai da dove proviene la parola Sufi? Dalla lana. La lana significa Suf in arabo. Non è come la seta. È un po' più grezza. Duro. Grezza. Duro. Sì. Sufi significa che hai la possibilità di avere una vita facile ma scegli la vita difficile senza punire te stesso. così attivi l'anima e abbassi l'ego. in quel momento quindi tu sei il fratello di ognuno il padre di ognuno l'amico di ognuno accetti tutte le persone come sono. Questo è molto importante. Accettare tutte le persone come sono. Ma devi essere un maestro Sufi per accettare le persone o ognuno può accettare le persone? Ognuno può accettare? Do you need to be a master Sufi to be able to accept other or everyone can do it? You don't need to be a master Sufi. This should be in everyone. This is something human. Questo non ha bisogno di essere un maestro Sufi. Dovrebbe poter essere parte di ognuno. Questo è umano. Noi siamo tutti la stessa cosa. Non c'è differenza. Non dovrei farmi più grande di te. Noi siamo uguali. Ognuno fa il suo lavoro e la sua missione. Non tutti hanno la stessa missione e lo stesso lavoro. L'80% delle persone hanno sia un lavoro che una missione. e il 20% delle persone il loro lavoro è la loro missione. Questo è ciò che noi chiamiamo i guaritori, i maestri, gli insegnanti, gli insegnanti, i professori, i professori che possono heal, guide, balance l'energia del mondo. Ecco perché in ogni paese queste persone usano il loro amore, la loro saggezza, i loro talenti, la loro intelligenza, per creare modi per aiutare le persone, per migliorare la loro vita, per farli sentire vivi. Quante persone si sentono solitarie? Non sono soli, ma si sentono solitari. quante persone hanno bisogno d'amore? Quante persone hanno l'amore da dare? Quante persone hanno l'amore da dare? Tutte le persone possono avere l'amore da dare. Ma quante persone lo fanno? Alcuni lo fanno nelle chiese, alcuni lo fanno nelle moschee, alcuni lo fanno nelle città, alcuni lo fanno nel deserto. Non sono molti. Ecco perché hanno un grosso lavoro.